Alla porta Cristo! Ma non ti si sente, porco! Ma non ti si sente, Cristo! Cinquecento. Cinquecento cosa? Un sacco di merda. Cinquecento secchielli. E' il numero che avevi in testa di una pangola ragazza. Cinquecento secchielli non può essere considerato da un quale portare rispetto. Ci servono per fare esperienza, per indolire la svolta. E così affrontate. Non cerco guai. Ma poi, il secco, non rischiato. Si imparano un sacco di mosse con un paciente. E la mia esperienza è questa! Oh, hai rischiato!